...direttamente gestita da un'associazione imprenditoriale e territoriale. L'UCC è stata fondata con l'idea di fornire al territorio un'istituzione universitaria che potesse contribuire allo sviluppo economico del territorio stesso. Dato la peculiarità della struttura economica del territorio che è fondata principalmente sull'impresa, in particolare su imprese di piccole e medie dimensioni, ecco che l'UCC è diventata fin da subito un'università dell'impresa proprio perché è fondata e gestita direttamente da un'associazione imprenditoriale per l'impresa, perché si poneva come obiettivo quello di formare capitale umano altamente profilato che rispondesse alle esigenze delle imprese del territorio e appunto permettesse, contribuisse ad aiutare le imprese nella sfida che dei mercati sempre più globalizzati e competitivi gli ponevano di fronte. Quindi l'UCC fin dalla sua fondazione ha avuto l'obiettivo di fornire un percorso formativo che fosse fondato sul sapere e sul saper fare, cioè che fornisse quegli strumenti necessari al laureato per promuovere sia la sua crescita e il suo sviluppo come persona e perché questa crescita...